Prosegue la difficile convivenza col virus anche in ospedale. È accaduto lo scorso fine settimana al Moscati. Un infermiere si è sentito male mentre si trovava in servizio. Il test molecolare a cui si è immediatamente sottoposto ha confermato i sintomi sospetti. Il covid aveva fatto ritorno in corsia. Per tutto il personale del reparto sono scattati tamponi straordinari oltre quelli di routine previsti ogni due settimane e in pochi giorni è maturata la positività di un secondo dipendente. Gli operatori sono entrambi vaccinati. Se la notizia non rappresenta un fatto eccezionale ma una eventualità da mettere nel conto dell'emergenza sono le procedure adottate a lasciare delle perplessità. Le nutrono i familiari dei pazienti che si sono rivolti alla nostra redazione segnalando quanto avvenuto dopo il riscontro dei casi di cui solo fortuitamente sono venuti a conoscenza. Il reparto non ha mai smesso le attività come prevedono i protocolli sanitari. Probabilmente sono state effettuate sanificazioni degli ambienti ma le visite dei familiari ai pazienti sono proseguite regolarmente. Anche in questa circostanza non ci sarebbe nulla di strano se gli stessi familiari non segnalassero che ai loro congiunti non è stato fatto alcun test rapido molecolare sino ad oggi. Una segnalazione che giriamo ai responsabili della struttura ospedaliera.